poco 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 madonna mia ma cazzo faccio con la storia il stato lico l'app e all'allocco che stato col carciofo ma che cazzo ci fa del carciofo se avevamo da naadro di merda di maschera subito instante niente ma te l'ho andato po all'airi di che stato io dillo con la maschera e tu hai tu quella trillite 30 e poi tank 3 top ok sto arrivando Lillo non ti preoccupare col cazzo vola vola ha detto vaffanculo mid e topi ha detto vaffanculo o bot vaffanculo mid guarda che bella la coda è finta è finta è rotta eh oh occhi questi vidi guarda che bella guarda che via il serpentino guarda qualche mano france i damnpe sti nani troppo che ne spavoni uno quello l'altro muore quindi ce ne vai sempre due a poi di sponso per vivendo un canto se non sei per me non puoi comunicarlo alzheimer si è sempre credito è sempre credito eccetto per culo io guarda 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 no 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 ma cosa? un po' fa acqua all'infinito la gali guarda io guarda io che cazzo guarda io che cazzo guarda io che schifo e adesso con faccia tu non fa danni quella cun vale? quella sua o di uscire all'istare iiii c'è un problema di cazzo ma si è messa per il partizionno sul titino iiii e se lo avete sentito quello dove devo possibili sto sentito in mano il titolo per chi non fa e me in e me in erica ma che è morto è morto guarda che mignotta o prende l'uccello muore un biancazzo voi si so so cancri come no no ecco guarda come lo prende mamma mia come gli la stacco male mi fa scegliato ah che è vero lì lo posso stupinare sempre guarda Q Q poi di nuovo Q e poi di nuovo Q che bellore che bellore che bello poi di nuovo Q ah troppo bello le ore ah oh cazzo ah si ma che bello con due cose è facilissimo con due che? con le 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 cose come cazzo si chiamano le ebole ne metto tipo 6 alla volta guarda che bello guarda che bello no va 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 quella premio non preme solo i ignomi morte 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 dove fa parte il cannone? ma non preme solo ignomi eh lo so non ce l'avevo la Q eh fatta la cazzata? no 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 lezzo vai via ehm ladimiro no indivina un po' vladimi da qua non lasci più indivina un po' vedi questa eh sono le o no vada Q sempre Q poi un'altra Q qui guarda guarda i ignomi infiniti ignomi un'altra Q qui non ti venite oh cazzo arrivo oh arrivo è morta quella si guarda è bello così proprio così guarda dove sto gioca io zì guarda quanti ignomi guarda quanti ignomi guarda quanti ignomi ma lascia lascia guarda come faccio io poccato questo ma non c'è sta a capire più cazzo gli è di ebbo le cose tutte le sorpreme poccato questi non si muovono poi non vi muovete più da lì avete capito tutto avete capito tutto hai capito di ebbo questo cazzo oh guarda ti va anche Vladimir che è carino france ti fa un po' più dei danni se no così non si può fa no france no france inci inci ma ma che morto che morto questo che ti piace l'ignore prima è grande se vieni qua pure tu che vuoi fa che vuoi fa io sono sempre qua eh sempre dite se ti siete follo vuoi è follo ti venga prendo a casa ma che c'è 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 c' bello se non vuole data apatemi riporto un'altra parte del mondo del mondo con dico per l'argomento tutto campo anche a punto doppia punto io sono solo vivente no tutto di fare attenzione in quel momento con cui stavano lì capisci oggi anche l'ultimo del sito di ipotesi segnaliamo le stesse quando ormai già stanno qua tutti si è un che è stato questo per aver fatto prima piano buio che c'è da loro la casa 1 1 1 1 4 non ha preso il cazzo motore dei vostri amici che sono giudice che ci ha dato un tanto che ci ha preso il cazzo che botta non ci stanno più stanno tutti il fatto che non è un'idea riuscita a venire qua tranquillo per favore per il 8. q ducca. ducca. attento ma che a te e qua la torre questa morire per il suo migliori del gioco del poste romino grosso visto l'altro o quello che vuol matto ma tanto cazzo no se vede quanti nani nooo guarda quanti nani ci stanno qua vai vai andiamo 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 è pieno di nani oh vai vai che è morto via via che è morto questo deficiente è morto eh no io no tento questo è l'ultimo morire morto lecce coppia della vita comunque arrivare a cui lo dico a cui lo dico oggi sono più bella bordo no muovere spesso guarderà un tempo di nani il gioco di spobbio soffermi per valentemente guarda ma vabbè porta con il stato guarda, guarda, guarda molto questo è molto ma ha ancora dopo guarda io continuo a spammà perchè tanto io qua foe se io ti li vado nye 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 nye, venite qua tutti noi c'è un'altra torre c'è qua io c'è un'altra torre andiamo dai vada a trovare vada che curta qua i nanni tanto qua so so pieni qua vogliono la torre vogliono guarda 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 ma puttana muori oh come on oh la gali l'amica nostra oh quella non è quella che c'era ti fermo oh ma io so tu anche via pure tu amica mia è deficiente oh eccola eccola super day un urlo no ma chi l'altro vabbè c'avevo pure 6.000 da spendere 5.000 da spendere ma non ho pure quest'altra torre non ho pure quest'altra torre che soppino di nani dai riman pure con l'ho fatta e fammeli con la pula a me tu sorella coglione tridi le opatrini mi faccio non ti azzardare mai le opatrini le opatrini di tutto te ma che lì si sta a farla tridi no ma questa è che è stato un ricco babbaro sto arrivando qui ragazzi tranquilli buonasera ho un po' più di vita allora chi è che deve complicare capo 8 botto top botto top 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 io continuo guardate che c'è nani non può consigliare avvicinarti bello bello sei pronto a farsi se dovremmo fare tutta volta le torri non è che a me mi serve solo Antonio che sto che c'è il red quella puttana ma se sei allontanato eh eh perchè franzini dai dammo top andammo top e io sto e io sto e lui sto sta franzini dov'è sta franzini dov'è sta qua sta bot sta bot fericchione eh zizi zizi i cibi bilanciati, è divertente so' gioco ah è bilanciata che so' feglie si 075 075 sulla e ma che 075 015 oh ziti ziti, l'ho avuto l'ho avuto guarda guarda che è morto resta lì perfetta idea quella dell'inglese chi è qua, chi è qua, chi è qua, chi è qua, amica mia vieni qua che zompi zompi oh un blu ma che mi fa blu ma che mi fa blu però quella è una cosa che lancia speller non riesce per mostre per mano, un'occhio con l'amor scopo che non suono sto coglione oh lello, lello, lello dai vai, che la riuscola bene appena da vicino eh, non ha niente, sono morto, hai preso il cazzo allora te che stu uno qua resta lì ok oh è bene bene, bene matta chi è qua, chi è, chi è, nome e cognome, chi è stato? porche, porche, che sta perdi eh ma quando porche prende il cazzo nome e cognome francesco vai, vai W, brah signori ma che tempo subito devi fare, la cazzo tu ma rega rega ma questi pensano di poter buttare giù la minta ma non ho capito un cazzo proprio ah beh c'è un canone qua, arrivo sei secondi di cooldown per la r ma amore mio ma io li ho chiuso questa cosa vai, engage vai, vai, vai che ferma silenziala che bello oh è partita coso? è firma lì proprio, firma lì oh ecco, ecco, ecco ho visto oh ma che scompare ma rega ma è troppo forte Vayne si baron, baron vai, 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 baron che c'ho gnomi baron che c'ho gnomi io faccio un po' di luce qua guarda l'eneri fammi pià sti cosi però, non sai oh, perchè hai branato rosso? questo baron non ha capito, proprio un cazzo non ha capito perché è l'arma del maiale giovani vai guarda quanti i nomi siccina l'arma del maiale fanno li che vogliono, non li facci parla mette me 62 contro 1 guarda quanti? sono troppissimi fate male più a me, non lo metto top 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 che babaru Vai Antonio vai avanti Oh W sempre dove sta Ho provato regà Sono quattro Nel frattempo Francesco Che cazzo stai a fare Senti quanto avremo Guarda che arrivo tutti Guarda che non fa male Non sta facendo male Sotto c'è il drago Sotto tu c'è il drago Sotto tu c'è il drago Dopo mi addi Però meglio che ce l'ha solo lui che nessuno Drago e Baron Grazie Ma perché è porc Che sta a fare quella build Ma è un cesso Guarda 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 È lezzo Quella corre Guarda tu c'è lei scarpette Non corri per te No c'è quella dello stumbo Oh l'ho uccisa Oh 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 Buttolo di merda Maricai gli sto puscia tutta la top Valle di là il cazzo D'affanculo 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 Vai Nani vai Valle di cazzo Guardai Nani Guardai Nani Nani mi è morta Nani mi è morta Ti struttosto Sto perdono Sta un ronto Valle di Boom 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 Che è un illimito questo Tu che cazzo vuoi? Sei tu, proprio tu Soppe se scuffi è quella Il mucco muore Il mucco muore Il mucco muore L'ho ucciso Eh, ponderavi No, no, la stilla, la stilla Raga, io ho fatto tre torri di fila Ciao, le belli No, hai definito C'ho pure la banshee, mo Quando metterà Non so, vaffanculo, va 15 minuti di partite, raga Vaffanculo Non ho fatto tutto il tempo manca a sorrendare Eh, ma cosa è che io mi ho fatto tanto male Sempre stunnati stavo Io, Lillo Tanto male, tanto male, regalo Io che le bloccavo Livello 97 Lillo stavamo tipo un 50 Perché tutti i anni Stavo 15.000 Oh, visto? Io ho fatto solo sei Dettagli avanzati, chi è che ha fatto più danno? Penso che io voglio vedere subito E sicuramente te Grafica Oh mio Dio, ti ha superato Matteo di quasi 100 Oh, io le porterei 2-8 Matteo di quasi 100 Lui, come se non vinne? Porco, due ci ha superato tutti i tembotto Vabbè, ma venne, schifo Venne, un trattore Che cazzo mi manda e fai? Ovvio Vabbè, ma venne, schifo Vabbè, ma venne Vabbè, ma venne